Intanto McHale prova a darle una mano, 15-0 15-0 di McHale che a Miami ha vinto i primi match dell'anno dopo un inizio di stagione veramente deficitario 30-0 Primo turno ad Auckland, sconfitta da Taylor Townsend, poi non si è qualificata a Sydney Subito fuori nel primo slam stagionale, sconfitta da Sasnovic a Melbourne Fuori al primo turno nel 125 mila dollari di Newport Mancate qualificazioni a Doha, a Dubai Primo turno a Capulco, prima turno a New Wales E poi a Miami Le prime due vittorie, peraltro la prima grazie ad un ritiro di Cagliacanepi Miami però le ha ridato Una certa fiducia, un certo smalto Che sta mettendo in campo oggi Anche oggi contro Casacchina 40-15 E due palle del 2-4 Allora Allora